Ieri sera c'è stata questa conferenza Stato-Regioni in cui il Governo ha deciso e ci ha comunicato la volontà di fare un'ordinanza di salute pubblica e di abbassare gli indici con cui si entra in zona arancione. Quindi dall'1 l'indice RT si entrerà in zona arancione a 1,25 si entrerà in zona rossa. Questo cambia lo scenario nel senso che nel momento in cui noi, come sta già avvenendo, saliamo nell'indice e stiamo sfiorando l'1 rischiamo di diventare in modo stabile zona arancione. Quindi bisogna essere trasparenti e cominciare a spiegare che questa situazione non è più una situazione di breve termine ma diventerà una situazione di medio termine che potrebbe anche avere conseguenze sull'economia in modo molto significativo. Durante le festività, nonostante le ristrettezze, l'indice è continuato a salire. Quindi significa che i contagi non sono avvenuti nei bar, nelle palestre o nei ristoranti ma sono avvenuti nelle case. Inoltre la scuola è un grande tema perché è sempre più evidente che il contagio, la positività più alta sta nei giovani dei 10-19 anni che sono completamente asintomatici e che però fanno da vettore e contagiano i loro familiari, i loro cari. Quello che noi stiamo pensando è che sia giusto evitare una apertura delle scuole, il 7, che per qualche giorno poi stia stabile fino al weekend successivo. Quindi rischiamo di fare questo effetto per cui si aprono e si chiudono le scuole in modo irrazionale. Allora la valutazione è se vale la pena al 7 riaprire tutto con il rischio di fare riaumentare l'indice dei contagi oppure essere più prudenti dall'inizio e fare in modo che ci sia una stabilità nella curva. Noi lavoriamo per fare in modo che le marche rimangano a zona gialla dal 7 in poi, primo obiettivo. Secondo obiettivo, riteniamo opportuno che le scuole rimangano a distanza, ovviamente stiamo parlando delle superiori. E quindi è una valutazione che farà il Presidente e che stiamo facendo tutti quanti insieme, dei pro e dei contro, ma penso che andremo in questa direzione.